Chiudere al traffico le strade del centro cittadino di Battipaglia e la proposta del Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico. Alla base dell'istanza la necessità di porre un freno al frequente superamento dei livelli consentiti di polveri sottili ed idrocarburi, registrato in più di un'occasione dall'ARPAC in varie zone del territorio di Battipaglia. Per questo il Comitato chiede all'amministrazione comunale di attivarsi e di prendere i dovuti provvedimenti considerando anche la già grave situazione ambientale di degrado del territorio.